Ciao ragazzi, un altro mese è passato e perciò siamo di nuovo qui a parlare della piattaforma gaming in cloud di Google. Attenzione, ve lo ricordo subito così ci togliamo il pensiero. Quello di oggi sarà il mio ultimo video su Stadia che pubblicherò su questo canale. Dal prossimo mese, infatti, tutti i miei futuri contenuti videoludici su Stadia e non, tranne poche eccezioni, li troverete solamente sul mio canale secondario, che è appunto dedicato ai videogiochi. Per questo motivo, qualora ancora non lo foste, iscrivetevi anche lì per non perderli. Detto ciò, l'ultimo mese ha visto i festeggiamenti per i due anni di Stadia, nuovi giochi, una valanga di sconti e tante novità che andremo subito a scoprire. E direi di partire dalle nuove feature che sono state implementate. La prima riguarda la possibilità di entrare nelle partite dei propri amici senza che loro debbano necessariamente ogni volta invitarci a giocare. Fondamentalmente è possibile attivare un'opzione nel proprio profilo che permette a tutti i giocatori che sono abilitati a vedere il nostro stato su Stadia di aggiungersi alla nostra partita in corso, senza la necessità di un invito esplicito. Ovviamente l'opzione è disattivata di default, ma per i giocatori che amano giocare in co-op ad ogni possibile occasione, beh, avere una possibilità del genere non potrà che far piacere. Inoltre, parlando di gioco co-op e multiplayer, i parti pubblici che erano stati aggiunti di recente e di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti ora sono stati sbloccati per qualsiasi gioco, quindi non più solo per quelli che vengono esplicitamente mostrati nella tendina laterale. La seconda funzione riguarda l'integrazione con YouTube. Finalmente, se il gioco lo supporta, sarà possibile avviare uno stream diretto su YouTube a 4K a 60fps e in HDR. In precedenza, la risoluzione era sempre e comunque limitata al massimo al 1080p a 60fps e senza HDR, indipendentemente dalla risoluzione e configurazione locale che il giocatore stava usando. In generale, il limite sulla risoluzione continua a dipendere dalla partita che si sta giocando, a volte ad esempio non supera i 1440p a 60fps. In ogni caso, l'aumento generale della risoluzione è un gradito miglioramento per tutti coloro che sfruttano tale funzione di streaming diretto. E la cosa bella è che è del tutto automatico. Il giocatore non dovrà far nulla per migliorare lo stream, semplicemente continuare ad avviarlo come ha sempre fatto dall'apposita area nella barra laterale di Stadia. Voi avete mai usato questa funzione? Io sì, in passato più volte, magari in futuro potrei portare sul mio canale secondario qualche gameplay alla massima risoluzione possibile. Che ne dite? La terza feature è in realtà un blocco di novità che presto arriveranno sull'applicazione mobile, applicazione che nei giorni scorsi, non una ma ben due volte, è stata aggiornata su Android. Con la versione 3.41 sono spuntati fuori dei riferimenti al suono Dolby Surround per Chromecast. Fin dal suo lancio, Stadia ha sempre offerto due possibilità ai giocatori. Coloro che giocano con il piano base ricevono il semplice suono stereo, mentre chi ha l'abbonamento a pagamento, cioè Stadia Pro, riceve l'audio Surround 5.1 se supportato dalla sua configurazione home theater locale e se il gioco stesso supporta tale feature. L'attuale implementazione del Surround è in grado di emettere suoni tramite modulazione lineare ad impulsi codificati o LPCM. Dal punto di vista della qualità, questa modalità è la miglior opzione attualmente disponibile in quanto è tra virgolette senza perdita, visto che l'audio non ha bisogno di essere compresso. Invece, i formati Dolby sono compressi. LPCM è perciò probabilmente la miglior soluzione possibile per Stadia e per il cloud gaming, in quanto qualsiasi audio compresso avrebbe poi bisogno di essere decompresso, introducendo potenzialmente ritardo nell'audio rispetto alle immagini di gioco. Il problema però è che alcune configurazioni home theater non sono in grado di trasmettere in modo corretto o completo un segnale LPCM, oppure può capitare che l'utente debba scegliere o tra audio 5.1 LPCM oppure tra video 4K HDR, non potendo quindi godere di entrambe le feature in contemporanea. Per questi specifici casi, un formato compresso come il Dolby Digital per trasmettere il suono surround può essere d'aiuto, e sembra appunto che presto, dall'app Stadia, sarà possibile attivare l'opzione per il Dolby Digital. Con la versione 3.44 rilasciata da poche ore, invece, è stata finalmente integrata una barra di ricerca decente anche su mobile. Ci è voluto un sacco di tempo affinché la ricerca sbarcasse sul web, mentre su app era stata approntata una soluzione temporanea da attivare manualmente nella sezione esperimenti che consentiva di filtrare i contenuti dello store e nulla più. Ora troviamo una comoda barra di ricerca che consente di cercare sullo store nonché tra i giochi già in libreria. Oltre a ciò, sono state scovate delle string che sembrano riferirsi alla possibilità di guardare direttamente in app le live stream avviate dalla community. Infine, un'altra chicca riguarda una nuova impostazione di privacy per disabilitare le risposte automatiche che l'app stessa suggerisce occasionalmente quando si chatta con gli amici. Perfetto. Chiusa la parentesi funzionalità, passiamo ai festeggiamenti. Il 19 novembre di due anni fa, Stadia apriva ufficialmente i battenti ed io ero lì pronto a mettere mano sulla piattaforma per la prima volta. La sera stessa ricevetti il codice per registrarmi sul sito stadia.com, una manciata di ore dopo l'apertura ufficiale. Bastarono pochi minuti per farmi rimanere di stucco sia per la bontà dello streaming e sia per la qualità dei giochi presenti. Non erano molti, è vero, ma per me erano tutte novità. Lo ribadisco sempre. Nel 2017 ho acquistato Nintendo Switch dopo ben 15 anni che ero digiuno di videogiochi. Il mio standard, per capirci, era fermo a titoli come Diablo 2 e FIFA 2002. Sulla console Nintendo ho trovato una marea di titoli divertenti ed in generale c'è una selezione enorme, ma i porting di giochi AAA come Doom, The Witcher 3 ed altri, seppur decisamente godibili, beh, non possono essere esenti dai limiti imposti dall'hardware su cui girano. Perciò, quando ho messo le mani su Stadia, avviare per la prima volta titoli come Destiny 2, oppure i primi due capitoli della saga di Tomb Raider, e successivamente anche altri, i quali girano a più di 1080p e a 60fps con dettagli elevati e quant'altro, per me è stato un balzo epocale. Poi, grazie a Stadia Pro al quale sono stato abbonato fin dal primo giorno, in 24 mesi ho ammassato all'incirca 120 giochi, molti dei quali mi sono piaciuti tantissimo e sicuramente non me li sarei mai fumati se non li avessi avuti compresi in un abbonamento. Il tutto spendendo molto meno di quanto io abbia investito su Switch il solo primo anno, anzi i soli primi 6 o 7 mesi, pur escludendo il costo dell'hardware. Ovviamente non tutti i giochi ottenuti col Pro hanno rispecchiato il mio gusto, ma sono sempre riuscito a trovare qualcosa in grado di intrattenermi e di farmi superare quel rapporto mentale che mi sono autoimposto per dare un senso alle mie spese videoludiche. Ve l'ho già raccontato nel video di un anno fa, ma fondamentalmente per ogni euro speso deve corrispondere almeno un'ora di gioco. Il Pro costa 9.99€ al mese? Beh, deve garantire almeno 10 ore di intrattenimento mensile, altrimenti per me non ha senso rinnovarlo. O restando abbonati in un anno, quindi giocando un po' di più in certi periodi e un po' di meno in altri, a fronte di 119.88€ deve far giocare almeno 120 ore complessive. Ad oggi, negli ultimi due anni, questo rapporto, per quanto mi riguarda, è sempre stato ampiamente rispettato. Ma sono tutte rose e fiori? Chiaramente no. Siamo a dicembre 2021 e su Stadia mancano ancora diversi titoli. Poi c'è sempre un po' di incertezza per il futuro, ed i giochi multiplayer, quando sprovviste di crossplay, risultano un po' vuoti, e potrei aggiungere altro. Una cosa, però, è certa. Nonostante le prese in giro delle testate giornalistiche, blog e voci più o meno autorevoli, le lamentele e gli insulti da parte di chi probabilmente non ha neanche mai provato con mano la piattaforma, beh Stadia è ancora lì, viva e vegeta, e continua ad ampliare il proprio catalogo, un pezzetto per volta. Continuano ad arrivare funzionalità esclusive, a volte sfruttate in modo interessante dagli sviluppatori, altre volte non utilizzate o non usate in modo convincente, e Stadia continua ad essere mossa da una tecnologia ed una semplicità d'uso che sono ancora superiori a quelle della concorrenza. Concorrenza che ad oggi, più o meno, dopo due anni dall'uscita di Stadia, sta iniziando vagamente a mettersi in pari. È incredibile come la piattaforma di Google sia arrivata sul mercato con una base così avanzata rispetto al resto. Mi riferisco ovviamente al cuore pulsante, lo streaming dei giochi e non alle funzioni a corredo che pian pianino sono state aggiunte. Già dal 19 novembre 2019, due anni fa, su Stadia era possibile giocare in 4K a 60fps con HDR ed audio surround 5.1, con una stabilità impressionante e zero di servizi. E praticamente nessun competitor ad oggi ha ancora raggiunto lo stesso livello. Personalmente rimango stupito di ciò e mi fa riflettere. Stadia è una piattaforma, non un semplice servizio, ha caratteristiche e funzioni proprie e rappresenta un blocco che non si appoggia a null'altro, motivo per cui i giochi devono essere implementati appositamente per essa, cosa che da una parte consente di avere potenziali funzioni esclusive, ma che allo stesso tempo ne rallenta l'espansione. Al contrario, soluzioni spesso definite ad essa concorrenti solo perché accessibili via cloud, sono principalmente servizi aggiuntivi che si limitano a fornire una finestra al di sopra di piattaforme già sviluppate e con cataloghi ampi costruiti nei decenni passati. E queste soluzioni devono concentrarsi fondamentalmente solo sulla tecnologia di streaming e su come bilanciare, mese per mese, la propria offerta commerciale per far sì di rientrare nella rata obbligatoria richiesta all'utente per l'utilizzo del servizio stesso. Altri servizi ancora, invece, non sono molto più che un noleggio di hardware remoto, insomma computer Windows su cui eseguire alcuni dei giochi già sviluppati per tale sistema operativo. In un mio vecchio focus su Stadia ho analizzato a fondo tutte queste offerte per fare chiarezza, quindi ora eviterò di allungare il brodo. Se siete interessati ad approfondire, trovate il link qui in alto tra le schede. Quello che volevo ribadire è come trovo incredibile che a distanza di due anni il mercato non abbia fatto quel balzo che tutti si aspettavano e come i vari player siano ancora molto prudenti verso l'espansione del cloud gaming. Stadia è in prima fila, ma è anche vero che, se non si muove tutto il mercato, Google da sola non può fare granché. Di certo, il colosso di Mountain View ha mostrato e dimostrato le potenzialità della sua tecnologia, tant'è che la sta già impiegando anche altrove, offrendo la stessa in white label per soluzioni di terze parti come quella di AT&T negli USA. A noi appassionati non resta altro che continuare a monitorare l'andamento per capire che cosa accadrà nei prossimi anni. Voi che ne pensate? Il cloud diventerà veramente un'opzione mainstream nel mondo videoludico, un po' come è successo per film, serie di V e la musica? Oppure tutto si trasformerà in una bolla e rimarrà un mercato di nicchia? O ancora, il cloud sarà usato solo come demo prima dell'acquisto e dal load locale dei giochi? Fatto sta che quest'ultimo anno è stato una montagna russa continua per Stadia. È uno stravolgimento totale se si pensa che solamente un anno fa usciva Cyberpunk 2077 e Stadia era uno dei pochi posti su cui il titolo girava bene. A fine 2020 sembrava palese che Google fosse decisamente avanti rispetto alla concorrenza e che la sua proposta fosse davvero destinata a ritagliarsi un posto nel mercato dei videogiochi. Poi a febbraio è arrivata la doccia fredda con la chiusura degli studio Stadia Games & Entertainment e l'abbandono definitivo delle sperimentazioni da parte di Google stessa nel mondo dello sviluppo dei videogiochi. Allora si iniziava a parlare di white label, ma in molti supponevano anche che i soldi risparmiati dagli investimenti diretti nello sviluppo dei giochi sarebbero stati sfruttati per stringere accordi esclusivi o comunque per far avvicinare sempre più sviluppatori alla piattaforma. Durante il corso dell'anno, però, a parte qualche luce qui e lì, non si è palesato nessun accordo particolare. Di giochi, sia chiaro, ne sono arrivati parecchi, spaziando tra diverse categorie ed alcuni di essi sono anche titoli AAA, ma determinati nuovi titoli di rilievo sono mancati ed alcune serie sportive non hanno rinnovato la loro presenza annuale. Durante l'estate, poi, il programma Stadia Pro ha cambiato formulazione, passando dai vecchi accordi commerciali con i singoli studio ad una più generica ridistribuzione dei guadagni sugli abbonamenti in base alle ore giocate per sessioni utente. A quanto pare, questa nuova proposta sembrerebbe aver generato, stando quantomeno alle testimonianze di alcuni sviluppatori, più guadagni per loro rispetto agli accordi precedenti. Ovviamente noi giocatori, e strane ai fatti, possiamo solo fare ipotesi sulla base di queste piccole informazioni che ci vengono condivise per farci un'idea di come stia andando. Ma non è facile tirare le somme. Google non ha mai annunciato il numero di utenti abbonati al Pro, né quanti giocatori usano regolarmente Stadia. Non sappiamo quante Premiere Edition siano state vendute, né quanti siano complessivamente i founder. Comunque, a quanto pare, nel 2021, Stadia Pro ha distribuito più giochi e più valore rispetto ai due piani in abbonamento concorrenti più simili che ci sono sul mercato, cioè PS Plus e Xbox Live Gold, il che significa che Google sta continuando ad investire parecchio e che le voci maligne che vedono una guccesura della piattaforma breve sono abbastanza ridicole. Inoltre, abbiamo date certe per alcuni titoli che arriveranno nel corso del 2022, anche annunciate da poco tempo, cosa che non sarebbe dovuta accadere se il tutto fosse destinato a morire. Certo, con Google le sorprese sono sempre dietro l'angolo, ma gli investimenti fatti fino ad oggi sono così elevati che il tutto suonerebbe davvero strano. Sempre nel 2021, Stadia è finalmente sbarcata su Android TV e di nuovi mercati, ampliando così la platea di possibili giocatori. È stata aggiunta la possibilità di controllare le sessioni di gioco anche via Phone Link, sono arrivati i parti pubblici e tante altre modalità di interazione tra i giocatori, e praticamente ogni funzione è stata rilasciata su app, TV e web, allineando una volta per tutte l'esperienza d'uso. Chissà quale sarà il passo successivo. Per festeggiare i due anni di attività, Google ha anche deciso di scontare a 22.22€ la Premier Edition in vendita sul Google Store. La promozione è valida fino a fine anno, anche se è raro trovare dei pezzi disponibili all'acquisto. Stanno probabilmente centellinando le vendite per evitare scalper e quant'altro. Inoltre, ad un prezzo così basso c'è chi ne ha acquistato in blocco. Voi siete riusciti ad accaparrarvi almeno un kit? Perfetto. Chiusa la parentesi festeggiamenti e retrospettiva sull'anno appena trascorso, passiamo ai giochi e alle novità sullo store. Nel corso delle ultime settimane sono arrivati su Stadia altri 9 titoli. Wavetail, in esclusiva temporale e su cui torneremo tra poco, The Jack Box Party Pack 8, Farming Simulator 22, Rayman Legends, Hunting Simulator 2, Blades and the Monster Machines Axle City Racers, Transformers Battlegrounds, Breakfast e Chorus. A stretto giro, da qui a fine gennaio barra inizi febbraio 2022, arriveranno anche The Jack Box Party Pack 7, 9 to 5, Monopoly Madness, Treta Revelations, Scarf, Troncleansis Rainbow Six Extraction, Life is Strange e Life is Strange Before the Storm Remastered, e poi, oltre ai tanti altri titoli già annunciati in arrivo, si sono aggiunti alla lista anche World War Z Aftermath, Fire Commander e Dynasty Warriors 9 Empires. Allo stesso tempo, non sono mancate Patch & Company che hanno riguardato Marvel's Avengers, in cui sono stati rimossi gli add-on Pay to Win che erano stati inseriti di recente, Dragon Ball Xenoverse 2 che ha ricevuto nuovi contenuti così come Far Cry 6 col pacchetto Insanity, Assassin's Creed Valhalla che è stato aggiornato alla versione 1.4.0, poi il DLC Cold As Ice di Orcs Must Die 3 che è finalmente stato reso disponibile, così come è arrivata l'attisissima update New Horizon per Outriders che ha portato la versione per Stadia al pari con le altre piattaforme di gioco. Anche Borderlands 3 è stato aggiornato, mentre in Super Bomberman R Online si è svolto l'evento Mighty Fest. Doom Eternal ha ricevuto un hotfix ed Android Days sta testando il direct touch tramite il quale sarà possibile giocare da mobile direttamente usando il touchscreen del telefono. One Hand Clapping uscirà dall'early access il 14 dicembre e si vocifera che potrà entrare Stadia Pro, vedremo. Infine, Creeta, Ark e Madden NFL hanno ottenuto rispettivamente degli eventi in-game temporanei. In tutto questo, ovviamente, non sono mancate le offerte, una valanga di offerte. Dapprima è arrivata una selezione di svariati titoli indie a prezzi molto interessanti e che state vedendo scorrere a video, poi si è passati alla controparte dei doppia AAA, anche qui con interessanti ribassi, ma è stato ovviamente in concomitanza di Black Friday e Cyber Monday che se ne sono viste di ogni. Titoli che fino ad oggi non avevano mai ricevuto sconti sostanziosi sono stati messi a prezzi decisamente popolari, così come sono tornate offerte invitanti su praticamente mezzo catalogo. Voi avete acquistato qualcosa? Ok, ed ora passiamo a Stadia Pro. Come ogni mese, gli abbonati al Pro hanno avuto la possibilità di riscattare senza costi aggiuntivi una selezione di titoli, mentre altri eventualmente non riscattati per tempo e sono tornati a pagamento. A fine novembre sono usciti dalla selezione due titoli, Everspace e PGA Tour 2K21, mentre a metà mese era stato inserito a sorpresa Wavetable. Poi dal primo dicembre sono arrivati altri cinque giochi, Destroy All Humans, Foreclosed, The Falconer Warrior Edition, Transformers Battlegrounds Complete Edition e Wreckfest. Teoricamente il 10 dicembre dovrebbe essere possibile riscattare anche Unto the End, ma visto che con Google non si sa mai, per il momento lo teniamo da parte. Insomma, per chi si abbonasse oggi stesso al Pro sarebbero ben 44 i titoli a disposizione, mentre per chi come me è abbonato fin dal lancio siamo arrivati a 118 titoli. Oltre a ciò, sempre come ogni mese, anche a novembre sono tornati i Freeplay Days, le giornate in cui è possibile provare senza costi aggiuntivi i titoli di volta in volta proposti. Ad inizio mese è stato il turno di Tom Clancy's Ghost Dragon Breakpoint, mentre a metà mese è tornato The Crew 2. Sono giochi che avevo già provato in passato e che non mi hanno particolarmente colpito, per cui non li ho riprovati. Questo weekend, invece, torna di nuovo Tom Clancy's Rainbow Six Siege, ma stavolta la novità è che potranno partecipare a Freeplay Days non solo gli abbonati a Stadia Pro, ma anche tutti gli altri giocatori di Stadia. Qualora non l'aveste ancora provato, questa è sicuramente l'occasione giusta per darci un'occhiata. Ma ora veniamo finalmente ai giochi, partendo da Wavetail e continuando poi con gli altri Pro di dicembre. Wavetail è un videogioco di avventura sviluppato e pubblicato da Thunderfall Games, i creatori dell'amata serie SteamWorld e The Lost in Random. Il nuovo titolo è stato presentato durante l'evento Thunderfall World del 10 novembre 2021 e il giorno stesso il gioco è sbarcato in esclusiva temporale su Stadia, direttamente nel Pro, esclusività che dovrebbe terminare a fine 2022. È molto probabile che Wavetail sia uno di quei giochi senza nome che erano stati anticipati durante l'ultimo evento live di Stadia a dicembre 2020, cioè quando gli studio Stadia Games & Entertainment erano ancora in attività. Durante quell'evento furono subito rilasciati Outcasters di Splash Damage e Submerged di Uppercut Games, mentre fu anticipato che presto altri tre titoli da rispettivi partner, cioè Thunderfall, Harmonix e Supermassive Games, sarebbero arrivati su Stadia. Poi gli Stadia Games & Entertainment hanno chiuso e di quei giochi non se ne è saputo più nulla. Nel frattempo, Harmonix è stata acquisita da Epic Games, mentre Supermassive Games si è occupata di altri porting su Stadia, come Little Nightmare 2, perciò penso sia improbabile che quelle annunciate collaborazioni vedranno me la luce. Wavetail, invece, in esclusiva su Stadia e realizzato da Thunderfall, è probabilmente l'unico del gruppo ad essere sopravvissuto, ma visti gli avvicendamenti che ci sono stati, non è chiaro quale e quanto contributo da parte di Google sia poi finito nel completamento del gioco. Il titolo, tra l'altro, si ipotizzava sarebbe dovuto uscire ad inizio 2021 e poi è stato rimandato a fine anno, probabilmente proprio a causa di tutti i suddetti stravolgimenti. Comunque sia, in Wavetail il giocatore controlla Sigrid, una giovane ragazza dai capelli blu a cui viene donato il potere di camminare sull'acqua da un'ombra misteriosa con cui fa amicizia. A quel punto, Sigrid potrà navigare sulle acque di una città sommersa e scoprirne il passato, ed avrà l'obiettivo di salvare gli isolani da misteriosi mostri. Inoltre, girovagando qui e lì, potrà scovare i segreti nascosti sotto la superficie. Come detto, il gioco è ambientato in mare aperto nel decadente arcipelago di Strandville, e la storia di Wavetail invita il giocatore, tramite Sigrid, ad incontrare pescatori, eremiti e pirati attraversando acque più calme oppure onde selvagge. Il gameplay è quello tipico dei giochi di avventura in terza persona, ma la meccanica che permette di sfrecciare sui mari è davvero particolare ed interessante. Inoltre, Sigrid potrà saltellare quelli sugli edifici della terraferma per completare gli obiettivi di gioco. Insomma, un titolo che sembra davvero molto curioso e che proverò sicuramente a completare. Non dovrebbe volerci troppe ore. Voi che ne pensate? L'avete già provato? Destroy All Humans è un altro videogioco d'azione ed avventura, open world, sviluppato da Black Forest Games e pubblicato da THQ Nordic. È il quinto capitolo della serie Destroy All Humans e remake del gioco originale del 2005. Il titolo è stato rilasciato sulle principali piattaforme a luglio 2020, mentre su Stadia è arrivato a dicembre dello stesso anno. Il porting su Switch è arrivato a giugno 2021, mentre dal 1 dicembre sempre 2021 è entrato nella sezione Stadia Pro. THQ Nordic ha già annunciato che nel corso del 2022 verrà commercializzato un seguito. Chissà se arriverà anche quello sulla piattaforma gaming in cloud di Google. Destroy All Humans è ambientato sulla Terra, in America negli anni 50, dove il Cryptosporidium 137, noto semplicemente come Crypto, controllato in terza persona dal giocatore, è stato incaricato dai suoi superiori di raccogliere il DNA umano al fine di salvare la propria razza destinata all'estinzione. Gli obiettivi di Crypto includono anche indagare su ciò che è successo al suo precedente clone atterrato tempo prima sulla Terra. Crypto è dotato di un vasto arsenale di armi aliene, come lo Zapomatic, utilizzabili per sconfiggere i nemici. Ha anche abilità sovrumane come i poteri psicocinetici e capacità di camuffarsi da umano. Crypto può usare un jetpack per spostarsi rapidamente e può anche comandare il suo disco volante, il quale è dotato di un raggio della morte che uccide gli avversari. I giocatori possono eseguire movimenti come la planata o la corsa e possono abbinare assieme azioni come sparare ai nemici mentre li fanno levitare. C'è poi anche la modalità focus che permette ai giocatori di agganciare altri nemici e Crypto ha uno scudo che lo protegge ed informa i giocatori sulla direzione degli attacchi ostili. Destroy All Humans presenta sei luoghi che possono essere esplorati liberamente ed ognuno di essi offre sfide uniche da completare. Il titolo è veramente divertente, assolutamente spensierato ed irriverente. Non mancano gag e situazioni hilari ed in generale si lascia giocare con piacevolezza. A voi ispira? Foreclosed è un action shooter guidato dalla narrazione ed ambientato in un mondo cyberpunk pieno di azione, suspense e modificazioni sperimentali. Il giocatore controlla Ivan Kapnos, la cui identità è stata pignorata di recente ed è stato privato del suo lavoro, dei suoi impianti cerebrali e del suo accesso alla città blockchain. Egli deve fuggire prima che la sua identità ed i suoi impianti cibernetici vengano messi all'asta. Foreclosed è stato sviluppato dallo studio italiano Antab e pubblicato da Merge Games il 12 agosto 2021. Lo stesso giorno è sbarcato anche su Stadia e dal primo dicembre è stato inserito nella selezione Pro. Siamo di fronte, fondamentalmente, ad una graphic novel interattiva portata avanti da una narrazione immersiva. Foreclosed compina perciò la giocabilità dei videogiochi con l'estetica visiva dei fumetti. E tutto, dal gioco ai filmati e persino alle cutscene, è vissuto all'interno della cornice di una graphic novel passando dai momenti di interazione a quelli narrativi con estrema fluidità. Le sezioni a schermo intero ed i pannelli dei fumetti si fondono mentre ci si muove nella città cyberpunk, dietro cui si cela una vincente storia di cospirazione. Due sono gli aspetti peculiari del titolo. Gli aggiornamenti firmware, che consentono di sbloccare nuove abilità con un sistema in stile RPG quindi sarà possibile potenziare le armi e personalizzarle con stili futuristici, oppure il cervello con impianti che forniscono abilità quasi sovrumane, ed i combattimenti high-tech. Utilizzando i suddetti potenziamenti sperimentali, armi e tecnologia, sarà possibile combattere contro i nemici. Ivan avrà a disposizione una pistola simbiotica con proiettili esplosivi ma potrà anche decidere di muoversi in modo silenzioso, con colpi stealth. Inoltre, egli potrà manipolare l'ambiente circostante ed arrivare a sbloccare abilità come la telecinesi per lanciare nemici in aria o scagliare enormi oggetti contro di loro. Non manca la possibilità di creare trappole o persino sovraccaricare gli impianti nella testa degli avversari. Il gioco è decisamente di mio gusto, sembra molto molto interessante e perciò non vedo l'ora di giocarlo a fondo. A voi piace il genere cyberpunk? Di The Falconer Warrior Edition, invece, vi ho già parlato ampiamente sul mio canale secondario dedicato ai videogiochi. Grazie alla collaborazione con Stadiaverse.it ho avuto la possibilità di provare il gioco qualche tempo fa all'uscita su Stadia, per cui ora eviterò di ripetermi se voleste approfondire trovate il mio focus a riguardo linkato in descrizione e tra le schede qui in alto. In generale lo ritengo una valida aggiunta alla selezione PRO, sicuramente un titolo molto particolare che potrà interessare gli amanti dei combattimenti aerei. Battlegrounds è un videogioco sviluppato da Cotsync e pubblicato da Outerite Games ad ottobre 2020. Su Stadia è sbarcato in edizione COMPLETE il 1 dicembre 2021 direttamente nel PRO. Si tratta del primo nuovo gioco dei Transformers da quando la precedente licenza di sviluppo di giochi posseduta da Activision è scaduta. Battlegrounds è un titolo di strategia e basato sul franchise Cyberverse con i disegni dei personaggi e gli attori vocali dalla serie animata. Si divide in atti ed in ognuno di essi il giocatore dovrà comandare Bumblebee, Windblade, Optimus Prime e gli altri Autobot in battaglia contro i Decepticon attraverso città, foreste, deserti, ecc. È possibile affrontare le varie missioni in single player oppure fare squadra tramite il multiplayer locale. La complete edition del gioco comprende anche il contenuto aggiuntivo Shattered Space Bridge in cui gli Autobot devono ricostruire il ponte spaziale per tornare su Cybertron cercando i componenti andati perduti, recuperando le abilità e riportando l'intera squadra a casa. Trattandosi di un gioco di strategia, il gameplay è il classico a turni durante i quali il giocatore ha la possibilità di eseguire un determinato numero di mosse suddivise tra attacchi e spostamenti. Ovviamente sarà necessario posizionare gli Autobot in modo da colpire nemici ma allo stesso tempo ricevere meno danni possibili. Ora, per quanto mi riguarda, i giochi di strategia non fanno per me, soprattutto se con combattimenti a turni. Inoltre il titolo sembra rivolgersi principalmente ad un pubblico, più giovane, amante della saga Transformers. Per questi motivi dubito fortemente che lo giocherò, ma sono curioso di sapere che cosa ne pensiate voi. Vi aspetto nei commenti. Breakfast, infine, è un videogioco di corse sviluppato da Bugbeer Entertainment e pubblicato da THQ Nordic, descritto come il successore spirituale della serie Flat Out ed un incrocio tra Flat Out Destruction Derby ed il cult per PC Street Road del 1989. Il titolo è rimasto in early access per 4 anni prima di sbarcare tra il 2018 e il 2019 su varie piattaforme di gioco. Da giugno 2021 è arrivato anche su PS5 ed Xbox XS, mentre dal primo dicembre è sbarcato su Stadia, direttamente nella selezione Pro, e nelle prossime settimane dovrebbe essere pubblicato anche su Switch. Una caratteristica notevole del motore di gioco è l'uso della modellazione dei danni softbody, che consente danni localizzati che influenzano in modo realistico le dinamiche di guida dei veicoli. E tale caratteristica è alla base delle varie modalità di gioco disponibili, tra cui Bunger Racing e Demolition Derby. Sono poi presenti corsi più tradizionali che seguono le regole fondamentali della maggior parte dei giochi di corse moderni come Need for Speed o Gran Turismo. Il giocatore controlla una macchina in una gara oppure in un Demolition Derby, ma l'obiettivo sarà quello di vincere arrivando primi oppure essendo gli unici sopravvissuti. Prima di partecipare ad un evento, il giocatore può scegliere un veicolo, selezionare una varietà di livelli di assistenza , oppure può acquistare e vendere tali veicoli, personalizzarli, o eseguire aggiornamenti. Il gioco presenta 3 modalità carriera, multiplayer ed eventi personalizzati. Durante le gare, i giocatori devono trovare un equilibrio tra tattiche difensive , e tattiche più aggressive . Nell'ultima live stream che abbiamo giocato sul canale di statiaversa.it ci siamo divertiti un sacco con Wreckfest, un titolo che si presta molto bene a sfide in gruppo. Voi ci avete mai giocato? E avete partecipato alla live? Bene, con questo si chiude la puntata di oggi e di questo mese. Come anticipato ad inizio video, e nei giorni scorsi, quella odierna sarà anche l'ultima volta che pubblicherò Focus su Stadia su questo canale. Futuri aggiornamenti li troverete esclusivamente sul mio canale secondario dedicato ai videogiochi, per cui vi aspetto lì. Come sta andando con Stadia? Siete soddisfatti dopo 2 anni dal suo arrivo? Vi aspetto nei commenti per sapere la vostra esperienza. Io intanto mi fermo qui, vi saluto e ci sentiamo presto. Ciao! Siete soddisfatti che resta об ru不插 Siete soddisfatti Ah! Oh Certo. Wow. Bene, bene. Ok. C. Certo.